Giro di Boa del Moto Mondiale e parliamo del Gran Premio di Olanda nel nuovo recent podcast settimanale per quanto riguarda il Moto Mondiale. C'è il tributo del TT di Assen che ha già ospitato, peraltro in questa stagione, la Superbike che aveva indirizzato il Mondiale verso Ducati. Qui Ducati è protagonista per quanto riguarda la categoria dei prototipi, non per un rilancio del Mondiale ma sicuramente per un riscatto morale perché a fronte di 2-0 pesante nelle ultime due gare, Francesco Banea si riscatta e vince davanti a Marco Bezzecchi sempre su Ducati e all'Aprilia. Di Maveri-Mignales in una gara di Olanda che di fatto è un triunfo per l'Italia avendo anche nelle prime posizioni tutte moto della nostra nazione. In una gara che vede il riscatto morale di Banea che fa una gara per una volta molto intelligente, per una volta viene capitalizzata una pole position che raramente è stata capitalizzata negli ultimi appuntamenti e c'è anche il riavvicinamento per quanto riguarda il campionato del mondo. Per quanto il distacco sia ancora enormemente grosso e per quanto secondo me Banea è comunque a oggi tagliato fuori per questa lotta. C'è comunque dicevo il riavvicinamento perché c'è il primo grosso errore del leader del Mondiale, Fabio Quartarro che va detto rimane ancora adesso il leader del Mondiale dopo questa caduta ma è evidente come questa caduta in curva 5 al tornantino di Assen abbia comunque compromesso la gara del francese che comunque partiva da una ottima seconda posizione. Viene peraltro coinvolto il rivale diretto di Quartarro ovvero Alessio Spargarro che comunque avrà modo di fare una gara sontuosa e recuperare dei punti fondamentali prima della pausa estiva che appunto vedrà coinvolto il moto mondiale. Quartarro cerca in questo caso un attacco all'interno sul piatto spagnolo di Casa Aprilia però gli si chiude il davanti appunto il 20 centra il 41. Quartarro di fatto si ritirerà e cadrà peraltro una seconda volta sempre nello stesso punto invece Spargarro dovrà di fatto girare per le terre e recuperare dalla quindicesima posizione fino addirittura alla quarta. C'è comunque gioia appunto dicevo per l'Italia perché il podio è rappresentato da questa immagine bellissima ovvero primo Francesco Bagnaia che dunque torna a vincere, terzo eccesso per lui in questa stagione, secondo Marco Bezzecchi il rookie del team VR46 e terzo Maverick Vignanes, altra gara di riscatto per il piatto spagnolo. Sappiamo che Vignanes è andato via di fatto sbattendo la porta lo scorso anno da Yamaha, è andato in Aprilia, lo scorso anno ha fatto qualche gara di apprendistato e adesso dopo dei test e anche delle gare ultimamente convincenti è arrivato il coronamento di questo impegno, di questo sforzo per il podio importante per quanto riguarda il rider spagnolo che comunque dimostra ancora una volta che Aprilia con due moto che letteralmente vanno in pista è una signora moto. Certo il rivale diretto di Quartarro e Spargarro finisce fuori dal podio ma è comunque una grande gioia per quanto riguarda Aprilia e quindi ecco spiegato il perché abbiamo il terzetto totalmente italiano perché appunto due moto italiani su moto italiana nella prima e nella seconda posizione e moto italiana ma pilota spagnolo nella terza posizione del podio. Per Francesco Bagnaia e anche per Marco Bezzecchi suona il canto degli italiani il nostro lino nazionale, Francesco Bagnaia che appunto c'entra il terzo successo in questa stagione Bagnaia è uno da tutto o niente, o si ritira o vince. Quando va a podio certo che ancora adesso gli zero di Catalogna e Saxe Ring fanno evidentemente tanto peso in questa rincorsa del mondo che vede un distacco pesantissimo siamo ai 66 punti, mancano 9 gare al termine e secondo me è un distacco che è difficilmente colmabile. Certo Quartarro oggi ha sbagliato, non mi aspetto però che il francese sbagli tutte le gare Quartarro tendenzialmente guida sempre sopra i problemi della moto che va evidentemente a cavalcare oggi però ha forzato troppo e dunque l'ha pagato. È comunque il primo zero per Quartarro a fronte invece di Bagnaia che invece ne ha fatti 4 in 11 gare che sono oggettivamente tanti. Vero ci sono 3 vittorie ma non si compensano minimamente con gli zeri fatti. Marco Bezzecchi fa un'ottima seconda posizione ed è il primo podio in carriera per il pilota che viene dalla moto 2 che ha corso per il VR46 sia in classe di mezzo sia in classe regina e terza posizione invece per appunto Mavera e Vignales anche per lui primo podio ma ovviamente non in generale in MotoGP ma appunto con la casa di Noale in una crescita comunque che si è vista nelle ultime gare anche nel Saxon che si era ritirato comunque era nelle prime 10 posizioni Vignales sta migliorando pian piano in qualificazione nel warm-up oggi è un passo incredibile e il podio è assolutamente meritato. Aprilia che fa comunque una buonissima prestazione perché Leicis Parkarro compie una grandiosa gara in rimonta per l'incidente di qui sopra e recupera dei punti adesso il distacco rispetto al Quartarro è di 21 punti il distacco che comunque è molto più gestibile rispetto ai 66 di Francesco Bagna sono 151 adesso i punti per Leicis Parkarro che non ha ancora fatto uno zero in stagione nelle ultime gare in striscia aperta di fatto top 5 consecutive sono di fatto 7 nelle ultime 7 gare appunto di fatto da quando si è rientrati in Europa e in pianta stabile da quando soprattutto Quartarro ha fatto quel click mentale per avere una Leicis Park più confortevole appunto in testa al mondiale gli altri piazzamenti quinto Brad Binder altro mister Costanza della moto mondiale in una sesta posizione che è incredibile abbiamo una KTM che comunque per le case ufficiali è sicuramente una delle più deboli dell'otto sesta posizione invece per Jack Miller che a momenti andava a centrare il podio ma alla fine il volatore appunto con Vignales e Binder l'australiano di fatto lo perde, settima posizione per Orge Martin per una Ducati Prama che in realtà in questa pista ci ha capito poco ottavo Juan Mir che fa una gara abbastanza anonima un po' come tutte le posizioni della Suzuki in generale da quando poi ha deciso di ritirarsi dal modo mondiale non ha posizione e andiamo sempre verso il competente della top 10 per Miguel Oliveira con la seconda KTM ufficiale decima la seconda Suzuki con Alex Rins gli altri italiani che abbiamo visto in zona punte abbiamo 14esimo Fabio Di Gianantonio che di fatto completa lo schieramento degli italiani a punti gli altri sono leggermente fuori perché abbiamo Morbidelli caduto per un errore suo abbiamo Dovizioso che finisce 16esimo con la Yamaha del team RNF peraltro team RNF che l'anno prossimo passerà ad aprile dunque anche la casa di Noale avrà il suo team cliente il 17esimo Luca Marini in netta discesa rispetto alle convincenti prestazioni di Bugello, Catalogna e Sachs Ring il mio rider del giorno in ogni caso per questa gara di Assen è comunque facente parte del team SkyBR 46 perché Marco Bezzecchia ha fatto una gara molto intelligente ha capitalizzato sicuramente una buonissima qualificazione perché partiva nella quarta casella ha sfruttato il doppio ritiro di fatto di Quartarò e di Spargarò anche se Spargarò in realtà ha fatto una gara in rimonta molto valida ed è un podio comunque molto meritato perché Bezzecchi ha avuto ragione prima delle Aprilia e poi anche di Orge Martin e passare in pista Martinator di certo tutto forché è un'impresa facile quindi podio clamoroso e meritatissimo per Bezzecchi il rider del giorno senza se e senza ma delusione del giorno senza se e senza ma invece è Johan Sarko perché a oggi è ancora il miglior ducatista su piazza per quanto riguarda la classifica del mondiale sono 114 punti Bagnaia è a meno 6 certo però che appunto da un pilota che comunque nelle ultime gare non usciva mai dai primi 5 fare una prestazione così anonima è veramente inspiegabile se pensi che l'altro compagno di squadra ovvero Orge Martin era comunque a giocare sul podio vero poi è sceso anche per una scelta di gomme non propriamente efficace però comunque una gara anonima per Sarko che partiva in ogni caso nelle prime posizioni poi ha fatto la gara del gambo e si è attestato tra la decima e la decima posizione alla fine finisce il tredicesimo fuori addirittura anche dalle posizioni della top 10 dove anche finisce fuori Enea Bastianini che non ho citato come italiano a punti lo faccio adesso con questa decima posizione è sempre un buongiorno per ricordare che Bastianini in questo momento non è un pilota che può puntare al mondiale nonostante le tre vittorie va detto però che sempre per il mercato Bastianini andrà in una moto ufficiale l'anno prossimo vedremo se con il team Pramac oppure direttamente con il team ufficiale vedremo cosa deciderà il mi vertici di Borgo Panigale in una mondiale MotoGP che comunque adesso farà una pausa ci sarà adesso la vacanza che per i piatti di Formula 1 invece è ad agosto una vacanza che poi finirà con il Gran Premio di Gran Bretagna in questo caso Silverstone dove peraltro la Formula 1 correrà settimana prossima in un Gran Premio che è sicuramente molto interessante passiamo adesso alle altre categorie dunque Moto2, Moto3 e MotoA in una Moto2 che vede un campionato molto equilibrato adesso c'è un sostanziale exequo in testa della classifica perché vince Augusto Fernandez Guerra ancora una volta dopo la gara del Saxo Ring seconda vittoria consecutiva per il 37 di Red Bull KTM e dunque per lui suona la marcia reale sostanziale exequo perché in quarta posizione abbiamo Celestino Vietti il nostro migliore italiano in questa categoria che ha limitato i danni Fernandez va detto in questa categoria in questa gara in particolare sta prendendo sempre più mano e sta sicuramente avendo un periodo di forma incredibile Augusto Fernandez Guerra nelle ultime 5 gare non è mai uscito nei primi 5 ha fatto 3 vittorie e un podio quindi è sicuramente il pilota più in forma e Vietti ha fatto bene a fare una gara di conserva da un certo punto di vista limitando i danni seconda posizione per Ayogura che è comunque lì in lotta per il Mondiale vediamo addirittura abbiamo 3 piloti in un punto soltanto alla pausa estiva quindi qualcosa di molto interessante il Mondiale Moto2 è probabilmente se non sicuramente quello più equilibrato e più interessante dei 3 perché in MotoE abbiamo comunque una lotta qui però la lotta è a 3 ed è molto interessante MotoGP invece il Mondiale è un po' più indirizzato scusatemi l'incarnamento con l'italiano il podio invece è completato da Jake Dixon pilota britannico del team Aspar Gas Gas secondo podio in stagione per il pilota inglese che dunque bissa quello che capitò a Austin Texas peraltro il team Aspar ha rischiato di fare una doppietta visto che c'era anche in testa Alberto Arenas che poi è caduta e ha dovuto abdicare è mancato dalla lotta mondiale e dalla gara in questo caso l'altro container a titolo del mondo ovvero Aaron Kanett che per un infortunio si è dovuto ritirare anzitempo dalla gara e di conseguenza questo 0 è molto pesante Kanett adesso è sceso in quarta posizione a 116 punti anche se ripeto con una vittoria si può tutto rimettere in gioco e vedremo come sarà il rush finale del Mondiale Moto2 nelle ultime 9 gare di stagione Mondiale Moto3 che invece è ancora equilibrato seppure appunto con solo i due piloti se parlavamo di Gas Gas Team Aspar per quanto riguarda il periodo di Jake Dixon qui ancora una volta parliamo del team in livrea bianco-rossa e ancora una volta abbiamo una diciamo dualismo in testa della classifica con Garcia e Guevara anche se stavolta non è il team Gas Gas a vincere ma è Ayumu Sasaki dunque per lui suona il Kimi Gaio lino nazionale giapponese prima vittoria in carriera per Ayumu Sasaki alla 95esima gara nel Moto Mondiale e appunto completano il podio i due del team Gas Gas con Isan Guevara secondo e Sergio Garcia terzo con Guevara che sale a 179 punti ma Garcia con questa terza posizione agguantata veramente con lunghe e con i denti in un volatone clamoroso è ancora più 3 sul suo collo nazionale e compagno di squadra 182 punti invece per il numero 11 volatone che non preme gli italiani perché Foggia si è ritirato anzitempo per una caduta a 5 giri dalla fine Tazuki Suzuki che è italiano da adozione in quanto vive a Riccione fa quarto e poteva essere riscatto nel team Leopard alla fine il migliore degli italiani in Moto3 è Stefano Nepa che fa la migliore gara della carriera da quando è in Moto3 in settima posizione per il pilota del team MTA di Alessandro Tonucci dunque buona gara per l'82 per gli italiani invece in realtà è una gara assolutamente in colore ma il Mondiale Moto3 è molto equilibrato è evidente come al giro di Boa le categorie propedeutiche sono più incerte rispetto al Mondiale MotoGP che vede sì un duello ma un candidato molto forte ovvero Quartarro, il Mondiale Moto2 e il Moto3 invece abbiamo tanti avvicinamenti di fronte tanti cambi di leadership e di conseguenza è importante vedere ogni singola gara per vedere chi la può spuntare tra i tre contendenti del Mondiale Moto2 e i due evidentemente del Mondiale Moto3 Foggia con questo zero è evidente come oramai si è quasi tagliato fuori perché 115 punti con i 182 di Garcia sono molto diciamo importanti da recuperare Foggia prevalentemente paga le troppe cadute fatte tra Mugello, Catalonia e Olanda c'è il podio in mezzo del Saxe Ring ma è appunto un lampo in una stagione che sta diciamo affrontando una stagione una parte di stagione molto molto opaca ultima categoria che andiamo a parlare è il Mondiale MotoE o meglio la Coppa del Mondo MotoE questa è la classifica aggiornata a gara 1 c'è stata poi anche gara 2 che è stata però un macello ma vedremo perché vince Dominic e Gerter anche una volta la gara lunga come al Mugello e dunque allunga in classifica al primo posto in generale dunque ancora una volta suona il salmo svizzero secondo Eric Granado pilota brasiliano un grandissimo esperto della categoria di cui parleremo anche in gara 2 terza posizione per Mattia Casadei in una gara 1 che ha visto comunque una gran bella volata con lo stacco decisivo di fatto a due giri dalla fine con Gerter Granado Ferrari e Casadei pronti a darsi battaglia e alla fine il nostro italiano che era in testa peraltro Mattia Casadei fino a due giri dalla fine ha dovuto applicare comunque una buonissima terza posizione questo è velocemente il recap di gara 1 questo invece il recap di gara 2 con appunto le posizioni che si invertono tra Granado e Gerter dunque in gara 2 sono il nazionale brasiliano in una gara tormentata dal maltempo perché dopo la MotoGP si è messa a piovere su tutti gli assi e di conseguenza la gara della MotoE prima è stata rinviata poi hanno fatto correre i piloti alla fine per le troppe cadute è stata alla fine sospeso il tutto gara dimezzata e di conseguenza Granado è vero guarda appunto i suoi Gerter ma lo svizzero è ancora leader del campionato c'è tanta Italia ancora una volta anche qui perché nelle prime 5 posizioni abbiamo 3 italiani con Mattia Casadei terzo Matteo Ferrari quarto Nicolo Canepa quinto parentesi come al solito sulle ragazze perché è un aspetto che seguo in questo caso Maria Herrera fa una delle migliori gare in carriera in MotoE finisce ottava è vero un contesto particolare sappiamo però che Maria Herrera sul bagnato va comunque molto bene dunque c'è una bellissima top 10 per la pilota con la carriera numero 6 per un mondiale MotoE che anche qui va in pausa esattamente come appunto MotoGP Moto2 e Moto3 la MotoE tornerà in Austria alla Red Bull Ring mentre appunto ricordo anche una volta la MotoGP tornerà a Silverstone dove ci sarà invece la settimana prossima il mondiale di Formula 1 che appunto riprende le ostilità appunto tra Verstappen e in questo caso Leclerc e Perez insomma tutte le dinamiche che sappiamo tra Red Bull e Ferrari ovviamente anche qui ci sarà il Racing Podcast domenica alle 19 un po' come oggi in MotoGP fatemi vedere cosa ne pensate evidentemente di questa analisi del campremio di Olanda prima della positiva del moto mondiale prossimo appuntamenti invece sul canale sportivo sarà questa settimana in base a quando finirà la serie di finale dell'Ok Ghiaccio tra Colorado Avanash e Tampa Bay Lightning per commentare Last of the Cup che sta veramente facendo sfracelli siamo arrivati a gara 6 che si giocherà stanotte e poi ovviamente parleremo di baseball americano di motori insomma tanti appuntamenti sul canale sportivo rimanete ovviamente sintonizzati il saluto da parte di Meteo Torgard ci vediamo al prossimo Grazie